Musica Tragedia sul lavoro, muore operaio, successo nel Beneventano, un manovale di 57 anni di Paupisi è rimasto vittima di un incidente in un cantiere edile di Torre Cuso. L'uomo è stato sepolto dal terreno mentre è rimpegnato in lavori di scavo per la realizzazione di una fognatura inutili soccorsi, aperta un'inchiesta. Spy Story, inchiesta sul traffico di dati. La procura di Napoli è pronta ad aprire un fascicolo sui risvolti locali dell'arresto del manager russo a Capodichino confermato il coinvolgimento di un ex dirigente italiano dell'Avio Aereo di Pomigliano, la società spiata dai russi. 81enne veglia per ore la sorella morte, il dramma della solitudine nel centro di Avellino. L'anziana è rimasta per ore accanto al corpo senza vita della sorella di 78 anni. Le donne, senza parenti, vivevano in stato di indigenza. Il caso era stato segnalato ai servizi sociali del comune. Bomba via dalle case 36.000 cittadini. Battipaia domani diventa un paese fantasma per consentire il disinnesco dell'ordigno inesploso dell'ultima guerra. Ora rinvenuto in città, il prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha messo a punto il piano sicurezza, coinvolti più di 500 volontari. Rione e sanità in piazza per Jenny. Quattro anni fa il 17enne Gennaro Cesarano venne ucciso durante una stesa. Solidarietà e impegno del quartiere che cerca di reagire. Il padre di Jenny in campo per i giovani, ma il mio è un dolore che non si cancella. I 90 anni della strega, emozioni e ricordi. Il presidente del club giallorosso, Reste Vigorito, ha chiuso la festa sul palco in piazza Benevento, davanti a migliaia di tifosi e ha voluto ricordare il fratello Ciro. La sua memoria vive in questa città. Un successo, il grande show di Biagio Izzo. Buongiorno, questi titoli del nostro TG in Apertura C'è la Cronaca. La tragedia nel Beneventano per la morte di un operaio finito sotto un cumulo di terreno mentre era lavoro per la realizzazione delle fogne di una scuola elementare a Torrecuso. Inutili tentativi di rianimare il malcapitato da parte dei vigili del fuoco. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta. Vediamo. Travolto e sommerso da oltre due metri di terra in uno scavo. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Torrecuso, nel Sannio, dove Vincenzo e Annella, 57 anni, residente nel vicino centro di Paopisi, è morto mentre si trovava a lavoro, all'interno del cantiere per il rifacimento delle fogne dell'istituto comprensivo di Torrecuso. Il dramma si è materializzato intorno alle 9, quando, secondo una prima ricostruzione, Vincenzo si trovava evidentemente all'interno dello scavo. In quel momento nell'area c'erano altri due suoi colleghi di lavoro della ditta di costruzioni del posto. All'improvviso un'enorme massa di terra si è staccata ed è precipitata all'interno del fossato, travolgendo l'operaio, rimasto completamente schiacciato e sommesso dal materiale caduto nella trincea. Quelli successivi sono stati momenti di autentico terrore e concitazione. Gli altri operai hanno immediatamente fatto scattare l'allarme ed hanno cercato di scavare anche a mani nude per cercare di individuare il 57enne. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco e le Ambulanze del 118, minuti interminabili durante i quali i soccorritori hanno scavato a mani nude combadili fino ad individuare il corpo. Inutili purtroppo i tentativi di reanimare l'uomo. Su disposizione del magistrato, la Salma è ora a disposizione del medico legale per gli accertamenti che saranno effettuati presso l'obitorio dell'ospedale Rummo. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e della compagnia territoriale di competenza hanno invece ascoltato le persone presenti al momento della tragedia ed hanno sequestrato l'intera area. Anche un italiano è coinvolto nella vicenda che riguarda il manager russo Alessandr Korshnukov arrestato a Napoli su indicazione degli USA per un sospetto spionaggio. Si tratta di Maurizio Paolo Bianchi, 59 anni, ex direttore di una società controllata italiana produttrice di motori aeronautici, labio aereo. L'uomo sarebbe stato incriminato negli USA con l'accusa di cospirazione per il furto di segreti commerciali. Il manager russo intanto è comparso davanti al giudice napoletano Mario Gaudio limitandosi a declinare le proprie generalità e sostenendo di essere arrivato a Capodichino per motivi di turismo. Il manager ha ribadito insieme al legale il suo no fermo alla richiesta di estradizione in America. Sarà la corte d'appello a decidere nel merito. Intanto anche la procura di Napoli è pronta a indagare sui traffici per ricostruire le mosse del manager sovietico e del suo collega italiano al momento indagato a piede libero. Andiamo ad Avellino, veglia per ore il corpo della sorella morta. È accaduto proprio in uno stabile del centro cittadino, al centro del dramma, una storia di degrado e abbandono. Sentiamo. Anziana, 81enne, veglia per ore il corpo della sorella morta. È quanto scoperto nella notte dai vigili urbani di Avellino in un'abitazione del centro in via Beata Francesca. Il decesso della donna, Concetta Abate, di 78 anni, era avvenuto per cause naturali, ma solo nella notte è arrivata la segnalazione al comando municipale. Sarebbe stata una vicina, a cui si era rivolta l'anziana, a lanciare l'allarme. Quando i vigili sono entrati nell'appartamento hanno trovato una situazione di abbandono e di degrado. Proprio 20 giorni fa abbiamo raccolto più di 100 firme per far provvedere, perché quelle c'hanno pure il giudice tutelare, sono assistite dal giudice tutelare. Ah, hai fatto tutto che firme? Però non è successo niente. I medici non hanno fatto niente, questo è il discorso. Cioè, qua sono venuti il psichiatra, il medico dell'ASL, l'anno scorso, gli assistenti sociali, hanno ritenuto che erano lieve alterazioni. Quelli invece tenevano allucinazioni, non hanno fatto niente, non fanno niente e né si lasciavano aiutare. Facevano continuamente confusione, vabbè, ma comunque erano problemi loro, comunque disturbavano chiaramente. Vabbè, comunque poi dispiace alla fine. Adesso poi l'altra quella lì è rimasta da sola, non so come farà, poverina pure, però diciamo che è giusto che prenderanno qualche provvedimento. Io mi sono interessato però, ma non per fare del male, per l'amor di Dio, ma per fare qualche cosa nel bene loro, che qualcuno le proteggisse. Dall'ASL mi hanno risposto che sono capaci di intendere e di volere, che stanno bene dove stanno. Tragico incidente nella notte in via Gramsci ad Aversa, nel Casertano, nei pressi dell'ospedale Moscate. Un giovane centauro di appena 16 anni di Casaluce ha perso la vita nello schianto con uno scooter. Secondo una ricostruzione degli agenti del locale commissariato intervenuti sul posto lo scooter stava effettuando una manovra di sorpasso, quando dall'altra corsia una Peugeot ha tagliato la strada ai due ragazzi a bordo del mezzo. L'impatto è stato violentissimo, non ha lasciato scampo a uno dei due. L'autista della Smart ha subito allertato i soccorsi, mentre il conducente della Peugeot ha proseguito la sua corsa. Dalle immagini di alcune telecamere di via Gramsci ora i poliziotti stanno cercando di risalire al pirata della strada e ricostruire appunto l'esatta dinamica dell'incidente. A poche ore dalla partenza delle operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico ritrovato a Battipaia il prefetto di Salerno si è recato sul posto per un sopralluogo. Massima attenzione alla sicurezza tanti uomini delle forze dell'ordine in campo per la grande evacuazione. Alle 5 di domani mattina scatta il grande piano d'evacuazione per il disinnesco dell'ordigno bellico ritrovato in un terreno di Battipaia nel Salernitano. Oltre 36.000 ai residenti che dovranno lasciare le proprie case. Entro le 8 pena la denuncia. Chiuse autostrade, traffico ferroviario enorme, lo sforzo di volontari della protezione civile e forze dell'ordine impegnati a mantenere la sicurezza in città. Intanto questa mattina sul posto per un ultimo sopralluogo si è recato il prefetto di Salerno. Abbiamo fatto stamattina, come stiamo facendo, con il sindaco, un buon sopralluogo per riverificare tutta la tenuta del sistema che mi sembra molto pronto e attento. Ecco c'è grande accuratezza, grande professionalità da parte di tutti coloro uguale e sono tanti che stanno partecipando a questo importantissimo momento che coinvolge buona parte della cittadinanza di Battipaia a cui noi chiediamo la massima collaborazione perché è essenziale per realizzare il prima possibile lo sgombero delle zone, la cosiddetta zona rossa, di coloro i quali comunque devono lasciare le loro abitazioni. E poi c'è tutto un sistema che è collegato ai servizi, che è collegato alla viabilità, che è collegato all'impegno straordinario da parte delle forze di polizia che interverranno con più di 500 uomini, così come sono più di 500 i volontari che cureranno i vari momenti appunto dello sgombero. Le varie pianificazioni ce n'è una ad hoc, quella sulla sicurezza ordine e sicurezza pubblica che è stata curata appunto con il coordinamento della prefettura dalle forze di polizia che serve appunto a questo, a controllare i varchi, a controllare che tutto venga abbandonato e che poi controllare all'interno dell'area una volta abbandonata, con l'utilizzo anche dei droni. Una caccia al tesoro in memoria di Geni Cesarano, l'iniziativa Rione Sanità a Napoli nel ricordo della vittima innocente della Camorra. Vediamo il servizio. Dolore e ricordo, quattro anni fa la morte di Geni Cesarano, vittima innocente di una stessa a pochi metri da casa nel Rione Sanità a Napoli. Quattro anni di impegno per la famiglia Cesarano, per i genitori Antonio e Vincenza, nel raccontare la loro esperienza e l'obiettivo del riscatto del coraggio personale con la speranza che non avvengano più tragedie simili. Da questo male, da questo dolore viene fuori poi l'impegno e il bene che mi sono dato io come famiglia, impegno con questi giovani. Si organizza queste cose soprattutto per lanciare dei messaggi ai giovani che possano veramente vivere di normalità e non essere attratto dalla criminalità. Quindi portare oggi questi ragazzi, questi scout, ha un significato enorme. Iniziativa con una caccia al tesoro che richiama ai luoghi di Geni, con un messaggio di rinascita per tutto il quartiere, in prima linea l'amministrazione comunale con Alessandra Clemente. I luoghi dove la rete di libera degli scout della città, che non dimentica, ha fatto sì che intorno alla famiglia di Geni Cesarano non ci fosse solitudine, ma ci fosse quel grande senso doveroso di solidarietà, ma poi, poiché la solidarietà non basta, anche un segno di riscatto. Il segno di riscatto oggi per l'associazione dedicata a Geni e per l'impegno del comune di Napoli è partire dalle ragazze e ragazze di questa città, di ogni quartiere e soprattutto offre l'opportunità. In Migliaia, in piazza ieri sera, per i 90 anni del Benevento Calcio, una festa giallorossa che ha incantato tutti tra ricordi, celebrazioni, risate e speranze. Credo che noi dobbiamo fare una cosa da questa serata splendida, dove finalmente c'è l'accordo di tutti. C'è quello che io ho sempre auspicato e che qualcun altro insieme a me auspicava e che oggi, stasera, insieme a noi sicuramente e che tutti quanti voi ricordate. Amava questa città, amava quei colori e avrebbe voluto vivere questa serata con noi. Ma sono sicuro che nelle vostre preghiere, nei miei pensieri, lui sta vivendo con noi questa serata e sarà sorridendo. Nel segno di Ciro Vigorito, la festa per i 90 anni del Benevento Calcio non poteva che ricordare chi per primo ha creduto nel sogno. Palpabile l'emozione del presidente Oreste Vigorito, che ha voluto rivolgere un pensiero a suo fratello Ciro in una serata magica regalata con affetto alla città. Benevento ha risposto compatta, con una partecipazione incredibile. In Migliaia, in piazza Castello, hanno voluto festeggiare celebrando la storia giallorossa attraverso i suoi protagonisti. Non sono mancati i momenti di allegria, assicurati da Biagio Izzo, che ha fatto da mattatore per la serata. Buonasera, allora io mi sono intrufolato, io devo stare qua perché io sono mio cugino. Io sono il cugino. Ma di chi? Azechi. Sono cugino e sto qua, voi sapete cugine chi sono. Siamo diversi, Izzo è curioso. Rispetto a me è più curto, mi sono più bello, mi è più fascina. Chi ci crede che siamo cugini? Mamma ho dicevo se no, Ereste è curioso, secondo me chi lo zica i dati di saca combinata. Sono il cugino di Oreste io, sì, cugino di Oreste. Il nostro presidente. Ti voglio molto bene. Un viaggio nelle emozioni, una celebrazione speciale in cui il grande cuore giallorosso ha pulsato all'unisono. Regionalismo differenziato, quali saranno gli effetti sul mezzogiorno e che ruolo avrà il nuovo governo nel processo di autonomia? Ne hanno parlato da Bellino. L'ex ministro per la coesione Claudio De Vincenti e il professore Amedeo Lepore. Sentiamo il servizio. L'autonomia differenziata sarà uno dei temi cruciali su cui si misurerà il nuovo governo giallorosso. L'ex ministro del Mezzogiorno Claudio De Vincenti, intervenuto in un dibattito ad Avellino con il professore Amedeo Lepore, si dice fiducioso. Il percorso sarà corretto in un'ottica di coesione nazionale. Si costruisce un sistema ben organizzato di relazioni tra Stato centrale e regioni, con un'autonomia di bilancio, ma anche con la definizione dei livelli essenziali dei prestazioni su tutto il territorio nazionale, le risorse necessarie su tutto il territorio nazionale, il fondo per equativo con cui le regioni più in difficoltà sono sostenute. L'ingresso della regione Campania nella partita ha in qualche modo movimentato questo quadro. Oggi però credo che bisogna fare un passo ulteriore, spero che il presidente De Luca sia d'accordo con me, il passo ulteriore è ridisegniamo l'autonomia secondo la Costituzione per l'insieme delle regioni italiane e poi all'interno di quello vedremo regione per regione se ci sono degli spazi specifici a seconda delle peculiarità regionali. E sulla gestione integrata delle acque De Vincenti ripropone il modello di una società sovrarregionale per il Sud. Una società che coordina l'uso di tutta la risorsa primaria presente nell'Appennino Meridionale. Questa era l'idea su cui ci eravamo mossi, poi si è di nuovo un po' fermato tutto, adesso speriamo che possa riprendere. Un certo ottimismo sulle prospettive politiche per la campagna e le aree interne è stato espresso anche dall'ex sottosegretario Umberto del Basso De Caro. Mi pare che ci sia da attendere buone e forti novità perché il nuovo piano per il Sud è proprio tra i primi obiettivi programmatici. Sarà fatto di infrastrutture materiali ed immateriali, soprattutto per fermare un fenomeno che qui ad Avellino come a Benevento sembra inarrestabile, la desertificazione sul piano demografico delle nostre comunità, soprattutto di quelle dell'Alto Irpini e dell'Alto Sanni. Spero che questo impegno programmatico si traduca in un impegno reale, ne sono convinto. Un patto PD-Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali in Campania a parlarne il deputato PD-Piero De Luca che apre all'ipotesi. Siamo pronti a dialogare e ragionare con tutte le forze politiche. Sarà a botte. Nuovo governo, nuovi equilibri e nuove possibili alleanze politiche spunta anche un ipotetico patto PD-Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali in Campania. A parlarne il deputato PD-Piero De Luca a margine di un incontro sviluppo sostenibile lavoro su delle imprese organizzato da Campania Liberalista del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Se ci sono le condizioni, ci dovessero essere le condizioni anche in Campania per una sintesi programmatica politica che parte ovviamente dall'esperienza straordinaria, positiva di successo del governatore Vincenzo De Luca. Noi siamo pronti e disponibili a ragionare con tutte le forze politiche e eventualmente anche con il Movimento 5 Stelle. Credo che sia un ragionamento che si sta e si proverà ad aprire in tutto il paese per portare avanti parte nei territori dei programmi che sono stati inseriti nel programma di governo nazionale. Era necessario riporre davvero l'attenzione e mettere in rilievo il dramma e l'emergenza sud nel paese. Il mezzogiorno va tutelato, va difeso, va diciamo sostenuto. Intanto il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia presente all'incontro con il mondo dell'imprenditoria a proposito del nuovo governo ha fatto il punto sull'attuale situazione politica. Abbiamo davanti a noi una grande questione nazionale che è la questione occupazione, incremento dell'occupazione e la questione industriale che vale al centro, a sud e al nord del paese. L'Italia non può e non deve essere periferia d'Europa ma deve essere centrale tra l'Europa e il Mediterraneo. In questo sia l'Italia che al nostro mezzogiorno assumerebbe una sua priorità politica. Sta alla politica chiaramente crearne le condizioni, le imprese devono fare il loro. Ricordiamolo che siamo la seconda manifattura d'Europa, non solo dobbiamo mantenere la posizione ma dobbiamo ambire a fare molto di più. Notte di paura nel nucleo industriale di Nusco, in Irpinia. Dopo la mezzanotte è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Avellino. Le fiamme hanno interessato il filtro di un silos di un'azienda del posto. Una volta ricevuta la richiesta di soccorso, la sala operativa del comando di via Zigarelli ha inviato a Nusco le squadre dei distaccamenti di Lioni e Montella supportate da un'autoscala della sede centrale. Il pronto intervento ha permesso di ultimare le operazioni di spegnimento già iniziate dal personale dell'azienda e di limitare dunque i danni. Nella fabbrica ci sono stati momenti di paura ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Un treno storico che unisce Pietrelcina e Assisi nel segno di San Pio e San Francesco. Questa mattina a Benevento la partenza del pellegrinaggio che si ripropone di rilanciare le aree interne. Sentiamo. Un treno storico che unisce idealmente due grandi figure di fede, San Francesco di Assisi e San Pio di Pietrelcina ma unisce anche due luoghi di pellegrinaggio attraverso la dorsale appenninica collegando le aree interne ed i loro problemi così simili. Così l'arcivescovo di Benevento Felicia Crocca ha raccontato il pellegrinaggio Benevento-Pietrelcina-Assisi sul treno storico. 460 ai partecipanti all'appuntamento che vuole essere anche occasione di rilancio per le aree interne. Noi dobbiamo riequilibrare lo sviluppo del territorio e le aree interne sono non solo il nostro polmone verde ma sono anche le nostre radici, c'è la nostra storia, ci sono delle grandi ricchezze. Un treno storico è secondo me simbolicamente e anche fisicamente il modo migliore per valorizzare. Io mi sono molto battuto anche per la riattivazione dell'Avellino Rocchetta nell'Alta Irpinia perché ha un po' lo stesso significato. Qui si aggiunge una componente religiosa di altissimo livello che collegare Padre Pio e San Francesco mi pare che non sia possibile andare oltre. Questa è una grandissima iniziativa, una grandissima opportunità perché ho detto questo treno collega la dorsera al Penninica centro-meridionale. Mi auguro che da oggi riusciamo a lanciare questa nostra proposta, a dar voce ai nostri territori e riuscire a portare sui vari tavoli governativi regionali e nazionali le nostre problematiche, le nostre esigenze, le nostre azioni di sviluppo. Tutto pronto con il nuovo piano anti-smog ad Avellino. Nessun blocco di auto, assicura il sindaco Festa, ma si spostano il terminal bus e il mercato bisettimanale. Sentiamo il servizio. Pronto il nuovo piano anti-smog del comune di Avellino. Il sindaco Gianluca Festa ha detto no allo stop di auto, ma a breve pianificherà il nuovo programma per evitare sforamenti di PM10. Tra le idee a favore dell'ambiente c'è la delocalizzazione del terminal bus da Piazza Kennedy e il mercato bisettimanale, la location ancora da definire. Intenderò certamente non chiudere la città al traffico. Non ritenevo quello il problema che causasse l'aumento delle polveri sottili, la presenza delle polveri sottili. Rimango di quella idea e certo non bloccherò il commercio e la vita degli avellinesi affrontando un problema che non è la vera causa. Lo spostamento degli autobus farà sì che anche il mercato bisettimanale sarà delocalizzato. È una decisione che ho già comunicato a luglio agli operatori del settore, quindi è una scelta già assunta. Abbiamo anche la location per la verità in mente, ma nelle prossime settimane mi farò carico di comunicarla ai consiglieri e anche alla stampa. Intanto questa mattina nell'ambito del programma per l'ambiente il sindaco ha piantato un acero in via Basile, un'iniziativa per difendere la foresta amazzonica dagli incendi. Dobbiamo dare molta più attenzione, molta cura al verde, sia da parte della pubblica amministrazione, sia da parte della comunità. Tra l'altro ringraziando il lavoro svolto fin qui dal verde pubblico, annuncio che stiamo per incaricare professionisti per la redazione del piano urbano del verde. E a Salerno torna il sindaco sceriffo, anatema del governatore sulla città sporca. De Luca se la prende con i dipendenti della partecipata del comune. Lavorate altrimenti si sbaracca, ci sono strade senza spazzini da mesi. Sentiamo. Lavorate altrimenti si sbaracca, durissime le accuse lanciate dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha vestito di nuovo i panni del sindaco sceriffo per attaccare i dipendenti di Salerno Pulita, società partecipata del comune che si occupa della raccolta dei rifiuti e della pulizia delle strade cittadine. L'ex fascia tricolore ha lanciato l'ultimatum dalla consueta trasmissione settimanale in onda sull'Ira TV. Ci sono problemi di comportamenti scorretti, l'80% fa il proprio dovere, c'è un 20% che non fa il proprio dovere, con fenomeni di assenteismo ripetuti, con gente che non ha voglia di lavorare e cose peggiori da codice penale. La città deve tornare ad essere una bomboniera, perché con 450-500 dipendenti non possiamo avere solo 70 persone che fanno lo spazzamento. O tutti entrano a regime, oppure si sbaracca tutto. Mentre l'assessore all'ambiente del comune di Salerno, Angelo Caramanno, precisa bisogna correre, lavorare di più, con più impegno, organizzare meglio le risorse e bisogna lavorare su chi sporca la città, i controlli li stiamo facendo, ma ci vuole più rabbia, più grinta. E continua con Salerno Pulita, ci parlo tutti i giorni. Li martello, ma evidentemente bisogna fare ancora di più, tutti dobbiamo fare la nostra parte. Ci vorrebbero le telecamere, ma ce ne vorrebbero un po' troppe ad uno del vero. Io vorrei sapere a questa gentaglia che cosa gli costa fare la raccolta differenziata e portarla. Che cosa vi costa fare un po' di raccolta differenziata? Che cosa vi costa tenerla a casa? Nuovi orari e ridistribuzioni delle corse per gli autobus a Benevento. Il comune ha approvato il nuovo piano dell'azienda. Sindacati sul piede di guerra per non essere stati interpellati. Sentiamo il servizio. E' caos a Benevento per il nuovo piano del trasporto pubblico locale, varato dalla trotta bus e approvato dal comune di Benevento. Corse dei bus ridistribuite e tagliate nei fini settimana per ottimizzare i costi. Modifiche che non stanno però bene ai sindacati. La Will in particolare chiede alla trotta di essere interpellati e di convocare un tavolo sindacale e non dare nulla per scontato. Credo che il valore del sindacato deve essere comunque ancora oggi rafforzato perché ci sono tante problematiche in questa città sul trasporto pubblico. Quindi chiediamo che l'azienda convochi i sindacati perché non può fare tutto in autonomia. Abbiamo bisogno di accordi, abbiamo bisogno di lavorarci insieme su questa partenza del piano. Perché ci sono tante difficoltà, ci sono tante realtà che neanche i titolari dell'azienda sanno che esistono in questa città. Abbiamo fatto anche un incontro con gli altri segretari delle organizzazioni CGL e CISL per mandare una nota unitaria e di incontrarci e fare un tavolo tecnico con l'azienda e non avere quella loro autonomia e arroganza. Il referente della Uiltrasporti chiede inoltre all'azienda romana di individuare una figura che faccia da tramite sul territorio. Oggi con il cambio tra il pubblico e il privato, il privato pretene anche determinate cose. Ma non è che non vogliamo farle, noi vogliamo un'organizzazione reale. Cioè vogliamo che comunque anche se c'è un privato, il privato deve vivere il territorio. I Cinque Stelle rilanciano la questione ambientale del fiume Sele e accusano lo scaricabarile istituzionale per la mancata bonifica. Dopo l'incontro in Regione il dossier è stato inviato al Ministro Costa. La bomba ecologica e ambientale rappresentata dal fiume Sele va affrontata con decisione, senza più rimpalli di responsabilità e scaricabarile istituzionale. A Palazzo Santa Lucia si è riunito il tavolo per fare il punto della situazione sugli interventi per il corso d'acqua che attraversa il territorio salernitano. Gli incartamenti saranno poi consegnati al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Ma rischia di diventare, a parte una bomba ecologica, anche un segno dell'incapacità della politica di risolvere un problema. Ma questo perché? Perché ci sono un'infinità di enti che praticamente devono in qualche modo controllare, per vigilare sul fiume. E questo comporta disorganizzazione totale. Mettere a un tavolo tutti quanti gli enti preposti e farli dialogare tra di loro per capire chi deve fare cosa e in che tempi bisogna fare questa cosa. Il frutto sarà una relazione che invieremo al nostro Ministro Costa affinché anche da lì, dal Ministero, possa capire in che spazi si possa muovere per le proprie competenze e che aiuto possa dare agli enti. Si parla di task force, si parla di ulteriori controlli, di droni, c'è tutto quello che si può fare, lo metteremo in campo, facendo, io credo, filiera politica con tutte le forze politiche. Quando parliamo di ambiente, non parliamo solo di ambiente fine a se stesso, non parliamo di salute dei cittadini, ma parliamo soprattutto di economia. perché su quel litorale gravitano comuni con i loro lidi, i loro alberghi, con il loro flusso turistico costante durante tutto quanto l'arco dell'anno e noi non possiamo permettere che la reputazione venga guastata di un territorio intero, venga guastata da pochi delinquenti che sversano oppure che gestiscono male magari a volte gli impianti di depurazione. Lotta allo spopolamento nei piccoli comuni in Campania, molti centri a rischio estinzione, come in provincia di Avellino, dove sale l'indice di mortalità e non si registrano più nascite. Circa 360 abitanti effettivi, l'ultimo dato di quest'estate 2019, 423 erano sulla carta due anni fa nel corso di un nostro reportage. Montaguto, ultimo comune irpino, è a rischio estinzione in Campania, nonostante le sue grandi potenzialità. Ci sono sicuramente tante potenzialità inespresse, ci sono tanti giovani, tante forze dormienti, anche di persone anziane, ma dico anziane, che sono autosufficienti e sono in grado di essere una risorsa preziosa per il territorio. Ci sono tanti gruppi frammentati, che ognuno coltiva la propria vita sociale, chi in un paese, chi in un altro. Ci sono sicuramente delle tensioni legate a conflitti di vecchia data. Allora si cerca proprio di fare quello, di azzelare tutto, di ripristinare proprio quel clima di socialità, di stare insieme e di capire che in un comune piccolo come il nostro, se quelle poche forze che ci sono si disperdono in direzioni opposte, è inevitabile il declino di una comunità. E noi stiamo cercando con tutte le nostre forze di far convergere queste forze nella stessa direzione. Ed era l'ultima notizia, il Tg termina qui. Grazie di averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.